le uniche conversazioni che ho nel mondo reale sono con voi grazie a tutti io non sono stato tanto attivo su instagram perché è un po che non esco di casa e non ho tante attività da filmare sono stato molto attivo qui e qui avrei potuto continuare a fare un sacco di storie dove faccio vedere che sollevo pesi che cucino quant'è pulita la casa però basta sto scrivendo delle cose sto filmando delle cose grazie a tutti